Buongiorno a tutti! Oggi siamo a Valenzano, a pochi passi dalla fermata del treno, in un contesto residenziale e tranquillo. Proponiamo in vendita un rifinito appartamento di trebani, caratterizzato da materiali di pregio, posto al quinto e ultimo piano di un edificio servito da ascensore. Marcando la porta d'ingresso si viene accolti in un ampio moderno open space, arricchito da un ruolo cottura con eleganti controsoffitti dotati di farecchia LED a basso consumo energetico. La zona giorno è illuminata da un doppio affaccio che garantisce una splendida luminosità naturale. La zona notte comprende due spaziose camere da letto, di cui una con bagno privato. Entrambi i bagni sono dotati di doccia walk-in e finestre con affaccio esterno, assicurando così un'ottima ventilazione e luminosità. Gli infissi in vetrocamera, le tapparelle elettriche predisposte per la domotica e le zanzariere offrono comfort e funzionalità, mentre il doppio affaccio dell'appartamento aumenta ulteriormente la luminosità degli ambienti interni. Completano la proprietà una cantinola di 6 metri quadri, ideale per riporre oggetti e attrezzature e un posto autoscoperto situato nel cortile condominiale, garantendo praticità e sicurezza. Non perdere l'occasione di vivere in un appartamento raffinato e moderno, in una delle zone più ambite di Valenzano. Non perdete questa occasione, se vuoi altre novità metti un like e seguici. Ciao, alla prossima! Ciao!